tu chiama le se vuoi consultazioni buongiorno signori copri i piedi si scopre il naso questa è la cosa drammatica che sta davanti queste forze hanno sono più figlie diciamo di un secondo tempo della campagna elettorale ma proponiamo un contratto di governo per il cambiamento dell'italia è un contratto sul modello tedesco e verificare se è maturata qualche possibilità che oggi non si registra buon lavoro